Si interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. È certamente giusta e condivisibile la decisione assunta ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, di estendere a tutto il territorio nazionale le misure restrittive già previste nei giorni scorsi per la cosiddetta zona rossa, ma occorre fare con la massima urgenza un ulteriore sforzo per sostenere le attività economiche che, in tutta Italia e quindi anche in Puglia, stanno già subendo delle ripercussioni pesantissime dalla crisi in atto che stanno mettendo in ginocchio complessivamente il nostro sistema produttivo. La Regione Puglia, nei limiti delle sue competenze, ha approvato nei giorni scorsi un primo pacchetto di misure per sostenere il nostro sistema economico. È infatti indispensabile che, esattamente come è stato fatto per le misure di contenimento dell'epidemia, siano estese a tutte le regioni italiane le misure a sostegno delle attività economiche previste nel Decreto Legge 2 marzo 2020, numero 9, per la sola zona rossa, cioè solo per alcune aree della Lombardia e del Veneto. Si tratta, solo per fare alcuni esempi, di misure finalizzate a sospendere i termini per i versamenti di tasse e tributi o per il pagamento delle rate dei mutui, delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o degli addebiti emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. Allo stesso modo sono necessarie per tutto il territorio nazionale misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali. Occorre anche pensare immediatamente come fatto per la sola zona rossa di Lombardia e Veneto, individuata con il DPCM del primo marzo scorso, ormai superato ad una indennità di 500 euro al mese per il periodo necessario per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, parametrandola alla effettiva durata della sospensione dell'attività. Come Governo regionale stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, da un lato per contenere l'emergenza sanitaria con lo straordinario impegno che il Presidente Michele Midiano sta mettendo in campo 24 ore al giorno, dall'altro per fronteggiare le ripercussioni di carattere economico che si stanno già producendo.